C'è chi parla di spezzatino in salsa di maio e chi plaude all'ipotesi di un Toto Bis in Alitalia. Di sicuro c'è che attorno alle vicende della fu compagnia di bandiera italiana non c'è niente di sicuro. L'ultimo atto in ordine di tempo è di poche ore fa ed è stato sciorinato dal quotidiano La Repubblica, secondo il quale Riccardo Toto sarebbe pronto ad inserirsi per il 30% nelle quote azionarie. Riccardo Toto è il figlio dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto, patron della Toto Holding, attiva nel settore delle grandi costruzioni stradali e concessionaria attraverso strada dei parchi delle autostrade A24 e A25. L'ingresso dei Toto, sempre secondo Repubblica, consentirebbe al vicepremier Luigi Di Maio di sbarazzarsi del coinvolgimento dei Benetton nel salvataggio della compagnia di bandiera. Un primo contatto concreto sarebbe già avvenuto a fine marzo negli Stati Uniti durante il viaggio di Di Maio a New York e a Washington. Il dialogo sarebbe proseguito al punto da essere ormai vicino alla formalizzazione. In azienda però non confermano e non smentiscono. La Toto ha deciso di non commentare la notizia. I Toto sono già stati impegnati nel trasporto aereo con Air One, poi confluita in Alitalia a caro prezzo, e con la New Livingstone, esperienza non troppo positiva, terminata nel 2014. Ma il fascino del volo evidentemente non è scemato. La famiglia dunque si riaffaccerebbe sulla scena decidendo di investire su una compagnia ritenuta ad un passo dal fallimento. I tempi comunque sono stretti non soltanto perché siamo vicini alle elezioni europee, che in quanto elezioni centrano sempre con tutti i grandi movimenti di vertice, ma anche perché Di Maio vorrebbe chiudere la partita entro martedì, data concordata con i commissari di Alitalia. Con l'ingresso di Toto il quadro azionario potrebbe definirsi, con lo Stato che resterebbe di fatto il principale socio di riferimento, 30% alle ferrovie e 15% al Ministero del Tesoro, poi un 15% alla compagnia americana Delta Airlines e, forse, qualcosina alla China Eastern. Infine, sempre secondo Repubblica, gli ultimi milioncini, circa 250, che corrisponderebbero appunto all'impegno finanziario dei Toto.